Bentornati su Strange Gaming, anche questa volta esploreremo i mondi liminali, questa volta andremo però prima a esplorare qualche nuova creazione, prima di continuare con alcuni mondi che abbiamo già visitato. Quindi andiamo a vedere questo video Dream System, che più che ha belle backroom sembra ispirarsi all'orrore analogico, andiamo a vedere cos'è sto video Dream System. Allora, segmento 1, segmento 3, 4, memoria, file sconosciuto, cos'è sto? Segmento 1, c'è scritto questo è il più grande segreto di Media Molecule, c'è tipo una campagna, ma in fondo sono tipo delle torri enormi, guardate, davanti alla luna ci stanno tutta questa serie di torri enormi che si estendono all'infinito, sono così lontane che si vedono solo la loro ombra che si staglia sulla luna. Allora, dietro di me vedo degli alberi della vegetazione, e questa è la prima videocassetta, perché questa è una serie di videocassette, ci sono delle bale di fieno gigantesche, e ci stiamo avvicinando a queste torri, assumono sempre più una forma precisa, guardate. Chissà se è possibile raggiungerle davvero. No, no, si è oscurata. Quindi questo è il primo filmato. Vediamo il secondo filmato. Invece di esserci scritto segmento 2, ci sono tre punti interrogativi, cosa sarà? Andiamo a vedere. Sono molto curioso di vedere sta cosa. Questa è tipo una foresta innevata, ma la neve è verde, è radioattiva sta roba, e ci sono delle croci. Questa è ghiacciata sta croce, c'è una cosa luminosa qua, andiamo a vedere. Ovviamente sto controllando io, come anche nel sogno di prima sto muovendo io. Cos'è quella cosa? Sembra che ci sia... cos'è? Sembra che ci sia un cart... c'era tipo un cartello su un albero, video. Oh, sono entrato in quella cosa, tipo sono in una... in una realtà alternativa, sembra tipo un pianeta alieno. Guarda che roba. Quando mi avvicino a queste bolle esplodono? No, non esplodono, vanno verso l'alto. Vanno in orbita. Oh, che strano. Questa è un po' una via di mezzo, eh? Fra... Fra l'analog horror e il liminal horror. Oh, c'è una cosa là, cos'è? Qua sono degli alberi, cos'è? No, 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 non interromperti il video. C'era tipo... sembrava un gruppo di alberi o di cespugli. Andiamo poi al segmento 3, andiamo al segmento 3. Ma qua siamo proprio con... Oh, guarda qua. Sommia proprio quel telefilm che vi dicevo? Ispirato a quei dipinti? Che adesso non mi ricordo come cacchio si chiamano. Aspettate un attimo, ha finito questo ve lo dico, eh? Perché sono varie puntate del... De questa serie sull'orrore liminale che sto nominando quella roba lì, ma... Ogni volta mi dimendo... non ricordo qual è il nome. E ve lo devo dire, perché... Cioè, i quadri li ho visti. Il telefilm l'ho visto. C'ho anche un videogioco ispirato a quella roba lì che ho comprato. Che è un gioco tipo multiplayer, però si può giocare anche in singolo, contro sti robò, invasori... In paesaggi bucolici... E quindi vedo un po' i nomi di sta roba. Sono entrato in una di queste strutture. C'è sta luce? Finito. Aspettate, torno subito, non è così ve lo dico. Allora, intanto andiamo sul Memory B... Cosa è sta roba? Il telefilm si intitola Tales from the Loop. Ispirato ai quadri di Simon Stalenag. E ne è stato fatto anche un videogioco, solo che non mi ricordo il titolo del videogioco, poi poi lo dirò. Ok, andiamo a vedere questa cosa con B. Cos'è? Questa sembra la prima scena. Ma un po' diversa. Qua la pellicola è rovinata sulla sinistra, come... Dà l'idea tipo di un Super 8, denà. Non posso tornare indietro qua. Dà l'idea di un video fatto in Super 8, ma che si è tipo rovinato, si è bruciato. Vedo di così bianchi là in fondo, cos'è? E non si riesca a raggiungere quei cespugli. E non riesco a andare altro qua. Niente, non mi fa andare oltre. Questo è memory, si chiamava questo. Vediamo, ha no il file, il file sconosciuto. Vediamo un po'. Allora, in effetti il From the Loop era tratto da questa serie di dipinti e diciamo che era ispirato. Diciamo che i dipinti... Questo sembra un luogo bombardato dopo una guerra, tipo. Cioè, stanno tipo dei corvi lì sul palazzo. Qua non posso entrare. Ma che c'è? C'è anche un impiccato. No, questa è una gru. Cioè, tipo un patibolo per gli impiccati. Sembra un luogo di guerra. Posso entrare qua? C'è una porta qua dietro, ma non ci posso entrare. Sembra proprio un filmato antico. Dei primi del Novecento, proprio. Qua c'è tipo una casetta di legno. Qua tutte macerie. Ok. Questa è la non file. Andiamo su Segment Six. Segmento 6. Ok. C'è un palo della luce. Qua dietro tutti i alberi. Non riesco ad andare avanti. Mi sono incastrato su una roccia. Oh, 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 oh. Il palo della luce ha fatto delle scintille. C'è un pianoforte qua. Che ci fa un pianoforte qua? Piano forte. Qua c'è una baracca. Lì in fondo vedo una croce. Mi sa che è un pezzo di una chiesa. La baracca dentro sembra vuota. Che è Siren Head? Ho sentito tipo quella. Era tipo una macchina, tipo un SUV. Non lo so, una Jeep. C'è tipo una croce. No, è la musica che fa così. Non è una creatura. No, dietro c'era tipo una città distrutta. Ma non fa in tempo ad arrivarci. Vediamo l'ultimo. Deleted. Deleted. No. Oh. Sembra un'apocalisse nucleare qua. Ci sono disturbi video da videocassetta. Che cazzo è quella roba? Non ci posso credere. Ma cos'è? Un incendio? O è dove una bomba nucleare? Non si capisce. Manca l'ultimo pezzo che è bonus. Filmato bonus. Vediamo cos'è. C'è stranissima sta raccolta di filmati paesaggistici inquietanti di questa creazione fatta su Dreams. Ah, vedi, sotto c'è il timer, c'è quanto tempo abbiamo prima che scompaia. Qua dietro ci sono delle croci, c'è tipo un cimitero, qua pure c'è un'altra croce. Qua vedo una statua di un angelo e una testa di una statua. Per terra, qua, pietre o pezzi di non si sa cosa. Ci sono altre croci, là. È un cimitero, questo? È un cimitero. Ma quante lapidi! Quelle sono lapidi? È incredibilmente realistica la gra... Sono tronchi tagliati. La grafica è incredibilmente realistica per essere fatto su Dreams, comunque. Guardate che livelli sono arrivati con le creazioni di Dreams, è incredibile. Non ci resta che cliccare su Quit, che sicuramente ci sarà una sorpresa. No, non c'è nessuna sorpresa. Comunque, ottimo, ottimo. Veramente questo video di Dreams System, veramente bellissimo. Veramente un'opera d'arte, anche questa. Qua PS1 Style, non è vero. Non è vero che PS1 Style. La grafica è veramente di livello quasi fotorealistico. Una cosa eccezionale. Ok, torniamo sui mondi liminali. Ah! Diamo un attimo un'occhio da questo The Company Man. Sono curioso. Andiamo a vedere. The Company Man. Allora, lo scopo mio era quello di continuare le avventure di The Mystery... Liminal Mystery Box e Liminal Monday. Ok, però, penso che prima voglio guardare questo cos'è. Allora, questo mi ricorda, ricordate, la terza e ultima parte... Company Man. Questo mi ricorda esattamente la terza e ultima parte di... di cui ce l'abbiamo fatto l'altra volta. Liminal Life. Iniziamo la... Cioè, c'ha gli stessi... Gli stessi, come si dice... Ehm... Ah no, ma è lo stesso progetto con Insta di Monday? Ma è lo stesso progetto con Insta di Monday, raga? Non è che questo è l'intro? E' l'intro che non abbiamo visto di Monday? E' l'ambiente lo stesso. Forse hanno usato gli stessi ambienti per fare questi due giochi? La grafica è fantastica. Allora, ricordate, Monday finiva dove l'avevamo lasciato noi, che lui riusciva a tornare a casa. Però non sappiamo se dopo c'era qualcosa, una volta che lui tornava a casa. Buongiorno, Distretto 45. Buongiorno, Distretto 45. Un nuovo giorno qui. Sono qui per dirvi che l'uccello che si sveglia presto la mattina prende il verme. Early bird è anche un modo di dire per chi si alza presto. E' andare a lavoro. Sono curioso di vedere se il lavoro è lo stesso dell'altro gioco. Se è questo qui, quindi è un prequel di Monday. Questo sarà un prequel di Monday? Quando lui va a lavoro il primo giorno e poi una volta arrivato lì gli dicono che... gli vogliono mettere il chip? Mettete la musica che bella! Oh, c'è un incrocio, avrò andato davanti? The Big Pile Production. Originated by Terror T-89. Fa anche molto Tales from the Loop qua, eh? E la fabbrica è la stessa di Monday. Delivery Yule, la azienda è la stessa. Vedi, questo è un prequel di Monday. Kay, il nome è lo stesso del protagonista. Si chiama anche lui, Kay. Aggiungi il tuo ufficio. Vabbè, ma questo è un prequel. Questo è quello che è successo prima. Ragazzi, questo è il prequel di Monday. Ma dove devo andare per entrare in ufficio? Qui? No. Non è qui. Sta lì? L'ufficio amministrativo. Ecco, siamo entrati. L'ufficio sarà lo stesso dentro? Mattina del primo giorno, mondo. E' quello che era? Ah, quindi in realtà non si chiamava Monday il gioco. Si chiamava... Company Man. The Company Man. Il gioco era questo. Vediamo dove eravamo rimasti, allora. Aspettate. Il gioco è esattamente quello. Torniamo indietro. Allora, torniamo a Monday. Allora, i giochi che già abbiamo fatto... Eh, dobbiamo continuarlo per forza, allora. Che era qua? Ah, ci dobbiamo anche vedere i sogni nuovi di Media Molecule, sì, che... Sicuramente sarà una bomba. Però non li abbiamo visti ancora. Poi li vedremo. Giocato di recente. Dov'è Monday? Non lo trovo. Eccolo. Quindi Monday era parte di quel gioco là? Facciamo continua. Allora, eravamo arrivati che eravamo tornati a casa, ricordate? No. Ah, ecco qua, che lui sta uscendo dal lavoro. Ricordate che lui... Gli avevano proposto di impiantarsi un cipo nel cervello, lui ha rifiutato, allora è stato declassato a Fattorino. E dopo una dura giornata di Fattorino che stava veramente faticosa, abbiamo dovuto smestare i pacchi, poi abbiamo dovuto... ehm... abbiamo dovuto consegnarli in una cittadina, eccoci tornare alla nostra macchina e dobbiamo andare a casa. Vediamo cosa accade. Vediamo cosa accade. perché eravamo tornati sotto casa del protagonista. Eravamo tornati sotto casa, ma... BOOM! Ma non avevamo... Non eravamo entrati in casa. Era finita lì la puntata. Dobbiamo riprendere da quel punto lì. Andiamo a casa. Quindi abbiamo visto il prequel. Cioè... Questo l'avevamo... tradotto. Dice... Non essere uno schiavo. Dice... Ehm... Alla fine di un giorno glorioso, l'inizio... L'inizio... Sarà l'inizio di un altro ancora più glorioso. Eh... Però a te che... Che lavori, che stare nella tua macchina, o nella tua... Nella tua casa, ti dico... Non... Ehm... Non essere uno schiavo e fare l'upgrade. Però lui ci aveva detto che c'erano... Infatti, se ricordate... Alla fine della prima puntata di Monday... Ah, abbiamo sentito... C'era la musica qua bellissima, che ora non c'è più. La musica era tipo anni 80, era. Perché non si sente più la musica? Scena End of Day One. Che poi mi sa che finisce così. Eh no, l'avevamo già vista. Eh... Non ci sono altre scene. Questa è l'ultima scena, raga. Quindi mi sa che... Ah, eccolo qua, sì. La musica è la stessa... Dell'andata... Della scena iniziale... Solo che qua è in versione elettronica. In versione musica elettronica, sei l'anni 80, col sintetizzatore. Mentre invece all'andata era fatta tipo più... Sinfonica, tipo più... Con strumenti normali, diciamo. Strumenti analogici. Ok, torniamo a casa. E mi sa che gioco finiva qui. Quindi abbiamo visto l'incipit e il finale. Qui di... Di Monday. Allora, devo... Eccola, ma... Ho visto la casa. È qua. Devo parcheggiare qui. Che è la stessa casa che abbiamo visto anche nell'incipit, no? No, era tutto qua. Quindi l'avevamo finito il gioco. Comunque ok, il pollice su glielo metto. Monday l'avevamo già finito nella puntata dedicata a Monday. Abbiamo visto una scena extra che ci mancava, che era l'intro. L'introduzione. Questa qui, Company Man, che era l'introduzione a Monday. Allora, adesso... Torniamo sulla lista di giochi liminal. Andiamo... Ah, no, spe, spe. Dobbiamo cercare di progredire nell'altro gioco. Proseguiamo nei nostri liminal worlds. E dobbiamo andare nella liminal mystery box. Eccola qua. Che questa non l'abbiamo finita. Eravamo rimasti, se ricordate, all'interno di un pozzo di scala infinito. Che se noi ci buttiamo giù nel pozzo, andiamo avanti all'infinito. Questo gioco è molto surreale. E questa l'abbiamo vista in una delle prime puntate. Allora, sì, siamo... L'imco, qua siamo... Allora, volendo, possiamo anche rifare tutto il gioco da capo, visto che comunque non tutti l'hanno visto. Oh, ma che casino è qua? Vabbè, ricominciate da qua, se no ci mettiamo un'altra dieci minuti, cioè non c'è un moltissimo tempo. Allora, se io vado qua, se mi butto, va avanti all'infinito. Vedete? Va avanti all'infinito, non finisce mai. Eh, però, aspettate, ho visto una cosa là. C'è tipo una persona, uno scheletro. Ha detto... Eh, c'era stato un lockdown quando è iniziato il bridge. Bridge sarebbe quando c'è qualcosa che non va, se è tipo security bridge, no? Allora, ci deve essere qua uno scheletro, l'abbiamo visto prima. ma, eccolo. Eccolo. Lo scheletro con dei documenti. Ma vediamo un po'. Limco. Esperimento fallito numero uno. La natura imprevedibile del spippolare con il quantum entanglement è troppo rischiosa per il test umano. Non solo abbiamo perso i soggetti del test, ma sono anche riapparsi in altri esperimenti, in... però in forma alterata e a volte molto pericolosa. Hmm... come faccio a posarlo mo' sto coso? Ok, se prendo questa... Allora, questa qui la... la carta, dice... aggiunta all'inventario. Ma adesso io la carta se la poso qui... Dice, era un bravo tizio e non se lo meritava. Niente, non funziona. Senti la voce come si è distorta. Mi sa che devo andare alla porta 10. 7, 8, 9... Questa è la 9. Vediamo, la 10 era quella mezza aperta, ricordate? Eccola, che si apre un po'. Ah, non c'è... Eccola, il lettore scheda è qua, però. Proviamo un po' alla porta 1, allora. Eccola. Oh, funzionato, ha funzionato. Tiriamo sulla leva. Ok, entriamo dentro. Sento un rumore di passi. Mi sa che sta caricando perché non... Non posso muovere nulla. Allora... Ricordate di tenere il prodotto option per centrarle sul tuo spiritello. Sta caricando, eh? Oh! Siamo all'interno di un avvicinato, però l'ha chiuso. Sopra ci sono le luci. Sta cosa mi ricorda un altro gioco che ho finito, ma che... Non so se l'ho portato. Era il gioco del fast food infernale. C'era una scena simile. Non so se l'ho portato quel gioco. Nella rubrica Strange Gaming, sempre. Allora, qua c'è un tubo con sotto un altro scheletro. Vediamo cosa dice qua. Resident Rimp. Ok. Allora, non Euclidean Storage Space. Allora, spazio di, diciamo... Di stoccaggio non euclidiano. Era molto popolare tra i consumatori durante il testing concettuale, ma durante il testing dal vivo, delle malfunzioni, dei malfunzionamenti hanno condotto a anomalie genetiche e la perdita di alcuni soggetti, di molti soggetti del test. La loro posizione attualmente non è stata confermata. Continueremo a testare una volta che questi problemi sono risolti. Allora, che vuol dire? Vuol dire che praticamente stanno cercando un modo di utilizzare dello spazio infradimensionale come... Oh, ma che porco! Ma che cazzo! Era finta sta casa! Mi sono preso un colpo, regà. Allora, magari anche questa? In pratica utilizzano lo spazio... Sì, pure questa. Lo spazio infradimensionale? Ma anche questo... Ah, ecco cos'era sto... Non era un tubo, era il comignolo che era cascato addosso a uno. Questa è un'altra casa finta che è cascata. Oddio, stanno a cascare i riflettori da sopra. Sto a cagare addosso. Ma è tremendo! Guardate quella casa finta che si vede che è solo un cartonato. Pure questa. Ah, aiuto! E in pratica... Questa è l'unica casa vera. Ah, somiglia alla casa quella che sta nella copertina del gioco. Mystery Box. Eh, ma è piccolissima. È una cosa piccola. Ah, diceva insomma che hanno fatto degli esperimenti sullo spazio che si espande, no? Nel senso che in un posto piccolo possono metterci... In un posto piccolo possono metterci un magazzino enorme. grazie a... grazie a... tutte queste stesse cose su... sulla materia, no? Qua non ho capito perché c'è sto pupazzo così. C'è tanto che dobbiamo entrare qua dentro, eh? Oh! Si apre così? Non è che devo suonare? Ho suonato? Però non serve a niente suonare. È bastato entrare. Ok, qua c'è una bici. Ah, dentro è molto più grande di come sembra da fuori. E poi qua dietro c'è un giardino che non c'era. Non c'era sto giardino dietro. Regà, è diverso. E c'è un oggetto sembra un triangolo. Aspetta, ma se... se io esco e vado dietro il giardino non c'è. Ma quindi è un... è un tipo un portale di un mondo parallelo? C'è incredibile sta cosa. Se guardo qua fuori... Vedo però i palazzi che sono caduti. Le casette che sono cadute. Dice mezzanotte uno qua. Qua c'è... Oh, ma funziona! Guarda, funziona! Gira pure il piatto! Ma funziona sto microonde, oh! Ha pure smesso perché c'è un interruttore, eh? Oh, si accende la luce, guarda! Solo ci sono delle scatole, eh? È super interattivo sto gioco. Qua c'è un frigo. Qua c'è scritto I'm watching, sto guardando. Qua ci sono dei libri. Existential Dread O di terrore esistenziale, praticamente. The Microwaves of the Mind Le microonde della mente. Si è aperto qua. C'è stato tipo dei quattro semi delle carte. Forse se ce li do metto in mazzo le carte là dentro. C'è una radio. L'ho acceso se si sentiva la musichetta. Si può aprire sta finestra? Sì, si può aprire! Ma guarda! No, c'è un posto dove si entra. Aspetta, aspetta, aspetta! Sta piramide forse va messa in quella in quella scatolina che abbiamo visto prima. Ok, entra nella scatolina. Non so i semi delle carte. Allora, manca un cerchio blu, un cuore e un quadrato giallo. Che cazzo è quello? Aspetta, ma che... Aspetta! Là c'è una bici e una finestra. Se mi giro qua invece c'è un corridoio. Ma che cazzo? Eh, là... Ma che cazzo? Ma è impossibile ma è impossibile sta cosa, ragazzi. C'è tipo una casetta qua in fondo. Come quelle che si sono ribaltate prima? Se la tocco non succede niente? Sto provando ad aprire la porticina? Non si apre? Non si apre. Torniamo indietro. Mamma mia, super inquietante sta cosa. Oh, c'è una porta all'alto. Che cacchio aveva vista? Non è un... È proprio una porta. Se la apro non si apre. Cioè, è proprio una porta messa sopra. Aspetta, torniamo indietro. se faccio così scompare il corridoio. Là c'è... là c'è un posto dove si va sotto. Ma prima aspetta perché ho notato un'altra cosa. Guardate qua. Oh, liminal voids vuoti liminali? Questo è l'inventario. C'ho questi due libri? Posso anche prendere altri libri? Sì, questo l'ho preso. Questo no. C'ho tre libri nell'inventario. La pizza posso prendere? Ah, ma me la mangio la pizza. Ho chiuso il cartone della pizza. Cambia canale. Se può cambia canale? Oh, su tutti gli occhi. Misterio se le forze of missing persons. Strani eh... Strani notizie di persone scomparse. Per favore riportateci attività sospette. in altri notiziari i consumer i consumatori le richieste dei consumatori sono cresciute i businessmen eh... vanno su capitalismo e poi ricomincia. Report of missing persons. cambiamo canale. C'è tipo una tenda con uno che dorme. canale morto e l'occhio che me guarda. Mettiamo l'occhio e sarà la metà la cosa più rassicurante. Però guardate me guarda davvero. Ok. Allora ho notato una cosa. Guardate qua. Qua a parte che è cambiato sto quadro che prima non era così. Però guardate. Guardate. È sparita qua la libreria. Non c'è più. Perché? È sparito il divano. È sparito il divano. è sparito tutto non c'è più niente. La scatola a forma di cuore ricordate il cuore. Il cuore questo ci serve soggetto. Si continua ad andare alla stessa direzione? No si continua così all'infinito. Devo andare al contrario. Ok adesso che vado al contrario? Adesso che vado al contrario la stanza è tornata quasi normale perché c'è sempre quel corridoio del cacchio là. Ok. Abbiamo messo anche il cuore. Manca la palla blu e il quadrato giallo. Questo è diventato blu prima era bianco o sbaglio? Non eri bianco prima te? È caduto. Forse c'era lui addosso la palla blu forse la palla blu è la sua testa? Prova mette la testa nel contenitore vediamo se funziona e non riesco più a prenderla Aspetta sì sì proviamo un po' Ah non è blu era solo la luce quindi non vale quindi non funziona Ok allora Allora andiamo fuori che c'era quel Oh ma io non posso più andare fuori mo No io voglio andare fuori raga Ah ok adesso va Era scomparso il il coso qua il giardino Senza giardino non posso andare fuori Ok andiamo sotto Ok Si scende all'infinito Che c'era? C'era una scritta? No erano delle delle striature sul muro 3 C'è un libro che si chiama La geometria non è euclidea Eh ma non c'è nient'altro qua C'era solo un libro che abbiamo preso però ok Forse devo mettere il libro nella scatola Ok vorrei mettere il libro nella scatola Giammatina non è euclidea Ah però vedete i quattro libri hanno i colori dei quattro oggetti da mettere dentro quindi manca quello blu che ha forma di c'è una vedete c'è una sfera disegnata sopra c'è due sfere in realtà sono due dimensioni che collidano forse Eh ma non riesco a Se può aprire sto libro C'hanno i quattro colori Allora il verde e il rosso ce l'abbiamo usato Mancano sti due Vedete sulla sul libro giallo c'è il quadrato che corrisponde al quadrato della scatola Però mi sa che qua abbiamo fatto Ah aspetta c'è un'altra porta Questa non c'era prima Oh cazzaro Questa porta non c'era prima Siamo in una stanza del contrario Ecco ho tornato la palla blu Fermi ho tornato la palla blu Ma devo solo riusci a riportarla su Come faccio? Oh cazzo Tutto è rovescio qua regà Allora c'è la porta Ah aspetta La scatola La scatola già Eh non si può prendere questa scatola già Non è questa Apriamo sta porta Oh Oh Ok Allora devo mettere la palla blu là dentro Chiamiamo l'inventario L'inventario come si chiamava col quadrato Ok Dov'è la palla? Eh ma la palla non c'è Perché non c'è nell'inventario la palla? La devo andare a riprendere No ma di che devo andare a riprendere Ti ho rifatto il giro Eh ma la palla non c'è più qua Non c'è più la palla Aspetta 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 Forse devo fare lo stesso lavoro di girare Ah Vediamo un po' No Non funziona qua quel trucchetto di girare intorno alla stanza Ecco la palla Ok ci manca l'ultimo Aspetta in che strada la palla Ecco Ci manca l'ultimo oggetto Ci manca il quadrato giallo Dove sarà? Se non invece c'è qualcosa che fa con quella stanzetta là Niente non si apre Allora forse sta fuori dalla stanza il quadrato il quadrato giallo Andiamo a dare un'occhiata fuori Allora poi ci sono altre case che crollano sicuramente tipo questa il cielo ovviamente ah aiuto mi è cascata in faccia a casa Questa pure casca qua cascano tutte forse bisogna farle cascare tutte apposta aiuto sono cadute tutte e qua non c'è nient'altro qua finisce sto set con le case finte qua è tutto chiuso abbiamo finito le case sono finita le case raga allora 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 ah qua ce ne stanno altre qua dietro come fa ci devo fare il giro qua dove c'era il faro da dove siamo entrati c'è un'altra queste però crollano tutte non c'è senso andà qua ah ragazzi la puntata finisce qui noi riesco a trovare l'ultimo facciamo l'ultimo tentativo rientriamo dentro rientriamo dentro la casetta e poi facciamo finire la puntata perché non riesco proprio a finirlo sto sto episodio qua dove potrò ah ma guardate ma è in 3D la le 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 in 3D in 3D all'interno della tv dove sarà l'ultimo oggetto forse i nuovi sti cassetti ah il frigo non l'abbiamo aperto raga qua c'è un cubo blu ma che non va perché il cubo il cubo ci serve giallo non blu si è pure incastrato tra l'altro allora qua niente devo far giro così e poi che è successo se provo a mettere il cubo blu dentro mi sa che se incazza il gioco niente non gli piace il blu cubo qua dentro c'è del latte forse il cubo blu lo devo in qualche modo colorare di giallo prima portarlo dove sta la casetta vediamo un po' se se funziona aspetta aspetta dimenticavo che qua qua c'è il giallo e qua c'è il blu forse c'è un senso sta cosa niente si è incastrato il cubo nel blu niente si è incastrato allora chiamiamo l'inventario usiamo il cubo sul giallo e non funziona proviamo a portare il cubo nella casa delle bambole non va non serve a nulla ma forse è un indizio che devo trovare una casa col comignolo verde devo trovare una casa col comignolo verde e la facciata rosa forse è l'unica casa vera fra quelle fuori andiamo a vedere comignolo verde e facciata rosa andiamo a vedere allora qua la facciata rosa c'è ma il comignolo non è verde e lo buttate tutte giù nessuna è vera di queste case no ragazzi non riesco a trovare l'ultimo l'ultimo quadratino aspetta ma quello cos'è quella cosa luminosa laggiù no è una luce è una luce rotonda niente non c'è niente di utile qua deve forse stare dentro la casa la soluzione però non ho capito perché mi ha fatto scendere giù sotto quelle scale dove c'era solo un libro abbiamo visto che i quattro libri per ora non servono a nulla forse servono più avanti rientriamo se esco qua se magari il cubo lo metto dentro la sta sta lanterna gialla ci sono altri cubi in giro però pieno dei cubi ci sta un cubo che è volato via boh niente se vado avanti così forse forse un po' cambia non cambia niente qua vabbè ragazzi per questa volta è tutto purtroppo non riesco a finire sto gioco forse in una delle prossime puntate di Eliminar Worlds vedremo un po' di riuscirci perché ormai è diventato un appuntamento quasi fisso qua con questi giochi di questo genere qua per questa volta è tutto ciao ragazzi aspettate un attimo provo a aprire questi interruttori qua che succede? un cacchio semplicemente si sono cese le luci poi tutto più luminoso ciao ragazzi alla prossima ciao